ben trovati davide il critico oggi durante la mia pausa pranzo stavo un po pensando e ragionando su quello che è l'umore della piazza in questi giorni perché a bologna si respira un po pesantina un po' un'arietta pesante e tesa perché dico questo perché già anche ieri sera con bfcni che vi ringrazio di ringrazio perché ha dimostrato di aver avuto anche ieri un seguito molto molto importante tantissimi vostri messaggi grazie 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 mille a me fa estremamente piacere vedere che siamo così tanti per parlare insieme del bologna quindi grazie ancora però anche da ieri sera si è percepito che a bologna ci siano grosse perplessità in merito a questo mercato estivo io se avete visto la puntata di ieri non ho dato una sufficienza a questo mercato non l'ho data non tanto per i nomi arrivati a bologna perché magari ci si aspettava più ummes rispetto a erlich perché cambiaghi l'hai pagato 10 se le meccas non l'hai riscattato il mio voto di insufficienza l'ho dato per le tempistiche in primo luogo perché arriva un italiano immediatamente e di questo facci complimenti perché appena è stato possibile italiano è stato chiamato dal bologna ed è stato integrato nel nostro progetto quindi per quanto riguarda quella tempistica bene 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 però non gli hai dato un reparto con cui lavorare per tutta l'estate e ad oggi ci troviamo in difficoltà soprattutto in difesa perché perché i ragazzi devono ancora capire e avere tempo per carburare e assimilare le idee di vincenzo italiano questo anche per collegarmi alle tante critiche che ho visto nei confronti di vincenzo io non è che abbia italiano come allenatore preferito nell'universo però reputo la scelta di vincenzo corretta per quello che può essere il nostro progetto e delle idee e dei risultati che a firenze hanno dato delle soddisfazioni poi ha perso delle finali siamo tutti d'accordo però vi parla uno che le finali non le ha neanche mai giocate io non sono neanche arrivato in semifinale io non so cosa voglia dire nemmeno riuscire a partecipare a una competizione con l'idea di vincerla che attenzione queste sono parole chiavi lui ha giocato delle competizioni con una fiorentina non tanto più forte del bologna con l'idea di portare a casa un trofeo cosa che qua a bologna se uno lo dice sembra che stia scherzando quindi io non sono qua tanto a dire italiano e ritardo sono qua a dire il mercato estivo ha dato tardi degli elementi a italiano che oggi deve iniziare a lavorare un po più tardi rispetto a quelli che magari potevano essere dei piani e quindi ti trovi con l'udinese e fai una prestazione incredibile soprattutto nella fase offensiva ma che non sei in grado di finalizzare e con napoli ed empoli vedi dei grossi grossissimi problemi soprattutto a centrocampo e in difesa anche in attacco è però diciamo che l'immagine di questo inizio di campionato è il gol che prendi contro l'empoli il gol che prendi da giasi un gol che subisci subito dopo essere andato in vantaggio quindi anche mentalmente non sei pronto non sei lucido non sei maturo sbagli un passaggio quindi c'è un errore tecnico e anche probabilmente di concetto l'errore lo fa moro nel tornare indietro c'è la pigrizia di carson c'è la lentezza di posce nel chiudere il cross c'è un lucumi in ritardo di condizione che probabilmente non avrebbe mai giocato se erlici non si fosse fatto male con napoli e poi un beuchemà che forse è l'unico che fa la cosa giusta un miranda che fa la diagonale c'è chi lo ha criticato per questo movimento ma se vogliamo racchiudere i vari errori io penso che più che andare a dare delle percentuali su chi ha sbagliato in modo più significativo il reparto difesa male la fase difensiva male e perché perché devi lavorare e italiano con l'arrivo in ritardo per le nazionali per il mercato per gli infortuni di questi elementi ha potuto lavorare poco è oggettivo questo è oggettivo il mercato per me merita un voto che gira intorno al 5 e mezzo perché come ho detto prima ci sono stati dei ritardi c'è stata anche una prontezza nel prendere italiano nel prendere miranda e nel prendere anche olm colpi immediatamente portati a casa per andare appunto a cercare di creare una difesa che poi non hai finalizzato fino all'ultimo secondo di mercato ma è chiaro che in un'annata in cui hai una competizione in più qualche acquisto diverso potevi farlo potevi farlo poi i valori e i voti dovremmo farli sulle stagioni concluse non su quelle che devono ancora iniziare perché adesso del gioco di italiano e di come si muoveranno i calciatori abbiamo visto poco secondo me poco i concetti di gioco ci sono la difesa alta la voglia di alzare un po più il pallone rispetto a quello che si faceva con l'allenatore prima sì tutto questo c'è però chiaro che con dei movimenti un po più corretti con meno errori tecnici anche in mezzo al campo i giocatori sono imballati molti hanno fatto le nazionali quindi tutto sommato io vedo delle grosse grossissime possibilità di migliorarsi e portare a casa una stagione con delle soddisfazioni ma questo mercato sembra aver tenuto poco conto di una champions league io credo che la rosa sia completa in questo momento competitiva anche possa lottare tranquillamente per un posto in conference ma ci sono delle incognite che speriamo che tra poco diventino certezze perché l'incognita più grande è il tuo centravanti che in questo momento è castro ma che in realtà guardando anche un po l'anagrafe dovrebbe essere dall'inga e tanto di questa stagione passerà soprattutto da dall'inga io credo che se abbiamo pescato un calciatore da 15 gol il nostro campionato cambierà completamente se invece lì davanti dovessimo essere più sterni del previsto sarebbe molto complesso perché italiano si gioca molto sugli esterni ma il centravanti serve che faccia gol non tanto che giochi come zirze perché quello un calciatore atipico che ha bisogno anche di un gioco molto più palla a terra ma il nove deve fare il nove e nel nostro bologna il nove deve essere pippo inzaghi deve essere uno che fa gol per il resto della manovra magari può prendersi più libertà ma davanti alla porta deve fare gol cosa che non è successa con l'udinese cosa che non è successa con l'empoli e non hanno sbagliato solamente i centravanti ma anche gli esterni perché di occasioni ne sono state create quindi ad oggi capisco un po l'umore della piazza una mancanza un po di entusiasmo seppur tra pochi giorni inizierà la champions league che io anche ieri facevo la doccia sotto la doccia pensavo mi immaginavo davanti a quel telone che si muoveva e quindi mi dimenticavo completamente di qualsiasi giocatore del bologna solamente perché mi immaginavo il mio stadio proprio del mercato l'ultima cosa l'ultima cosa che avevo in mente ma capisco anche chi è più pragmatico e meno sognatore che valuta questo calcio mercato e ha probabilmente anche paura di fare delle figuracce io questa paura al momento non ce l'ho so che è un eventualità ma c'era anche conti a gomotte la squadra dell'anno scorso perché se la squadra dell'anno scorso va a liverpool io non è che proprio sono convinto di uscirne con tre punti o senza prenderne sette non è che proprio sono convintissimissimissimo anzi quindi adesso da fiducia vincenzo e voglio dargli anche del tempo per lavorare quello che mi fa un po male è vedere come soprattutto sui social i tifosi del bologna invece di creare un'unità per andare avanti a volte si lasciano un po a delle discussioni anche feroci che sgretolano quell'unità che a bologna secondo me dovremmo avere non significa pensarla tutti allo stesso modo però ecco rispettarsi sì quello secondo me è un fattore che può darci tantissimo perché se una forza è unita anche se con pareri contrastanti la squadra ne giova assolutamente assolutamente questo è un mio pensiero poi ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti ti ricordo iscriviti al canale mettere mi piace al video e andare su instagram a seguire la pagina davide il critico forza bologna sempre ciao